Il Paraguay ha accolto Papa Francesco con allegria, canti e balli tradizionali all'aeroporto internazionale di Assunzion. A 27 anni dalla visita di San Giovanni Paolo II, in un tripudio di colori sgargianti, il Pontificio ha raggiunto il Palazzo Presidenziale per la visita di cortesia al Capo di Stato, Orazio Cartes. Nel giardino della Residenza, dinanzi alle autorità del Paese, Papa Bergoglio ha detto di sentirsi a casa in quello che è definito il cuore dell'America, una nazione che ha conosciuto le sofferenze della guerra, dello scontro fratricida, della mancanza di libertà e della violazione dei diritti umani e che oggi, superate le avversità, cerca di costruire una società prospera e in pace. A tutti il Pontificio ha reso grazie, soprattutto alle donne che hanno portato il peso maggiore, infondendo speranza alle nuove generazioni, e ha chiesto di costruire sempre la pace, anche quella del giorno per giorno, evitando gesti arroganti, parole offensive, atteggiamenti prepotenti e promuovendo invece la comprensione, il dialogo e la collaborazione. La misura del modello economico, aggiunto, condannando la corruzione e il narcotraffico, deve essere la dignità integrale dell'essere umano, soprattutto quello più vulnerabile e indifeso.